Siamo con Tommaso Volpe, qui alla fine della partita, qui a Palla Ferrerin, che ha visto la vittoria del Breganze per 4-2 sul Montecchio. Tommaso, con piacere abbiamo visto che sei ritornato dall'impegno con la Nazionale in Argentina in ottima forma. La tua prestazione questa sera è stata veramente significativa, è stato uno dei protagonisti. Hai fatto un bellissimo gol a 5 secondi dalla fine del primo tempo, che sicuramente ha messo un'ipoteca sulla vittoria della tua squadra. Come ti senti? Come è stata la tua prestazione questa sera? Beh, è bello sicuramente tornare a giocare a Breganze, dopo un'esperienza che mi ha tenuto lontano quasi un mese. Aspettavo di giocare anche la prima partita stagionale in A2, perché un infortunio mi aveva tenuto fuori l'inizio della stagione. È andata bene, possiamo sempre far meglio, però mi ha sbagliato tanto davanti porta, e anche io personalmente. Speriamo che le prossime partite vadano meglio. Sì, non bisogna dimenticarsi, ecco che siete molto giovani e l'esperienza della Nazionale sicuramente vi darà la possibilità, passo dopo passo, di crescere, imparare e sicuramente in un futuro ritagliarvi le soddisfazioni e i meriti che sicuramente volete raggiungere in questa stagione, che è una stagione che vi vede sicuramente tra le protagonisti per un'eventuale promozione nella massima categoria. Una massima categoria che tu sicuramente è un tuo pensiero fisso, darai tutto per arrivarci. Cosa vorresti migliorare ancora del tuo gioco per poter un giorno arrivare in A1? Al momento magari la cosa che mi piacerebbe migliorare è un po' il ritmo, perché essendo stato lontano appunto molto tempo, essendomi allenato molto, poi va bene le partite, però comunque sono ancora stanco. e ho tempo per comunque far fiato, far gambe, speriamo il più in fretta possibile, comunque speriamo che guarda tutto bene. Esattamente, sì sì, abbiamo come dicevo prima, siete molto giovani, abbiamo tutto il tempo per, avete tutto il tempo per poter fare le cose con i giusti tempi. Ti ringraziamo Tommaso e complimenti ancora per questa sera. Grazie. Grazie.